I assessori Teresa Armato, Pierpaolo Barretta e Chiara Marciani si sono recati oggi per un sopralluogo istituzionale alle Terme di Agnano. Un luogo che, nonostante il degrado attuale, è ricco di storia e ha le potenzialità per essere un importante volano di sviluppo per la città. La visita è stata anche l'occasione per discutere dell'emergenza occupazionale per i lavoratori delle Terme e della necessità di salvaguardarne i posti di lavoro. Quello che si è trovato evidenzia con chiarezza l'abbandono e l'immobilismo degli anni scorsi al quale noi abbiamo voluto reagire sin da subito, appena possibile, nominando un nuovo commissario qui che si sta occupando e ha messo immediatamente in moto le cose giuste, le attività giuste per invertire la tendenza. E dall'altra parte abbiamo trovato una realtà sulla quale investire, da tutti i punti di vista. Non possiamo farci scappare questa occasione, non possiamo non cogliere a pieno l'occasione di rilanciare questo sito in piena città. Quindi dobbiamo mettercela tutta per fare in modo di dare uno splendore a questo posto. Entusiasmante perché si vede le potenzialità, la ricchezza del sito, del luogo, le condizioni straordinarie di un impianto che ha una storia ed esolante per le condizioni in cui è rimasto. Io penso che ci sia bisogno di un intervento organico che va studiato assieme ai colleghi, assieme alla giunta e al sindaco, ma lasciare in queste condizioni è una responsabilità che non ci dobbiamo prendere. Dobbiamo prenderci la responsabilità di rilanciare. La riunione di oggi serviva non solo per renderci conto della situazione, ma anche per discutere di quelle che sono le emergenze occupazionali per i lavoratori attuali delle terme di Agnano, che sono le emergenze che dobbiamo salvaguardare. Il lavoro che ci auguriamo di portare avanti a breve termine e fare in modo che appunto questa struttura possa essere un volano occupazionale per tante persone, oltre naturalmente a quello che già hanno sottolineato i miei colleghi dal punto di vista anche turistico e come opportunità per la nostra città. Intanto le statue presenti nel complesso, risalenti al II secolo d.C., sono state temporaneamente affidate alla soprintendenza archeologica di Napoli, che procederà al restauro e alla custodia per riportarle alle terme quando saranno in sicurezza. Nei giorni scorsi, la stessa soprintendenza ha anticipato l'interesse di un importante museo internazionale a esporre la Venere delle Terme di Agnano all'interno di una mostra dedicata alle Veneri Marine.